Allora proviamo questa sera a fare un ragionamento in una zuppa serale, si vede che è una domenica di Pasqua quindi in cui siamo tutti a casa, in cui tutti siamo ai nostri arresti domiciliari e mi è venuta diciamo un po' di orticaria, io sono una persona fortunata, lo dico in tutti i modi perché oltre ad essere guarito ho la possibilità di lavorare, sono uno dei pochi che può lavorare, che può fare il suo mestiere, certo con tutti i limiti del mestiere che si può fare in questo momento e questa settimana ho pensato e penso insieme a voi e per questo mi è venuto in mente diciamo di fare questa zuppetta serale, penso insieme a voi che prospettive abbiamo in più per uscire, per evadere dalla nostra libertà rispetto alla settimana scorsa, la settimana scorsa saremmo potuti andare una volta alla settimana più o meno a fare la spesa perché in questo momento in cui ci sono i droni, in cui ci sono gli elicotteri, adesso sento una campana, io sono qua a Roma, una campana di una chiesa ma non potete andare in chiesa, non potete se siete dei cattolici andare a fare la Santa Pasqua in chiesa che non è esattamente una domenica di precetto, è la super Pasqua, non potete andare in chiesa, non possiamo andare a fare nulla se non stare a casa, ci sono i poliziotti e la polizia municipale, la guardia di finanza, ci sono migliaia di lettere che ricevo e anzi mi scuso con tanti di voi non riesco a rispondere tutti né sul sito né su Instagram né su Facebook, ragazzi starei tutto il giorno a rispondere le lettere ma una grandissima quantità di queste lettere, una parte di gente che ha fatturato zero, l'altra parte di gente che viene più o meno pizzicata, così si dice, così ha scritto il sindaco raggi, a girare per la città, come se questo anelito di libertà che si esplica per esempio andando a fare la spesa e comprando tre bottiglie di vino e viene imultato perché non sono considerati beni essenziali, beh insomma questi aneliti di libertà ognuno di noi li vive nel modo migliore. Bene, quando ho visto Winston, che è Winston di Orwell, non Winston Churchill, dire la settimana scorsa a reti più o meno unificate nell'orario di punta, a parte la polemica con Meloni e Salvini, ne abbiamo ovviamente già parlato in un'altra zuppa, dire dalla settimana prossima saranno aperte le librerie, saranno aperte le librerie, io ho pensato ragazzi siamo in un mondo lunare, lunare, siamo in un mondo lunare. Allora io vi segnalo due libri, il primo La disuguaglianza fa bene, no? Marchetta, Marchetta, questo è il termine giornalistico di quello che sto facendo, La disuguaglianza fa bene, è un vecchio libro che ho scritto per la nave di Teseo, secondo libro che in questo momento è nelle librerie, si chiama Le tasse invisibili, tasse invisibili. Perché sto facendo questa marchetta? Ve lo spiego, perché voi martedì, martedì, secondo il decreto di Conte, secondo il nostro Presidente del Consiglio, secondo l'uomo che non si può criticare se no si diventa uno sciocallo, beh, voi potete uscire dalle vostre case, voi potete uscire per comprare tre bottiglie di vino, no, per poter andare in farmacia c'è un infermiere che mi ha detto che è andato dalla mamma a portargli una spesa che abitava lontana da casa, domani forse ne parlerò in trasmissione a Quarta Repubblica, è tornato a casa, gli hanno chiesto dove sei andato, sono andato dalla mamma, no, non potevi, era un operatore sanitario, gli hanno fatto 400 euro di multa, ma ce ne sono migliaia di casi di questo tipo. Domani, voi sapete che fate, no? Domani è Pasquetta e quindi dovete stare a casa, voi sapete che fate? Andate in una libreria, andate in una libreria e dite al libraio, entrate nella libreria e gli chiedete, potete darmi per favore la disuguaglianza va bene o le tasse invisibili? E se il libraio vi dice di no? Se il libraio vi dice non ce l'ho? Se il libraio non vi fa comprare il libro perché in quel momento è possibile che un libraio non ci abbia il mio libro, soprattutto la disuguaglianza fa bene, che anni fa, ma le tasse invisibili dovrebbero averlo? E vi dice di no e voi tornate a casa e voi siete sicuri che non vi facciano la multa? No, avete capito il ragionamento? Cioè, se vi beccano con il cane a 500 metri da casa vi fanno la multa, se tu vai in una libreria e chiedi la disuguaglianza fa bene, beh, lì la multa non te la possono fare. Voi dovete far vedere questo video, guardate Porro mi ha consigliato di andare a comprare le tasse invisibili, io voglio leggere le tasse invisibili, ma come vi può dire il poliziotto, non è un bene essenziale e soprattutto potevate comprarla online, cosa che potevate fare in tutta questa quarantena, come abbiamo fatto tutti noi, comprare libri online, vi arrivano fisicamente a casa oppure vi arrivano anche in formato ebook. No, tu devi andare in libreria, tra l'altro una libreria che perde tutto il suo sapore, perché voi non andate in libreria per avere una socialità per sfogliare i libri, con i guanti, senza guanti, con mascherina, senza mascherina, non state lì a discutere con il libraio che sta a 5 metri, mi consiglia questo piuttosto che un altro, no, voi dovete andare lì a comprare il libro e poi a uscire, cioè fare una specie di meretricio della cultura, perché questo è andare in una libreria, io li adoro i librai, ma li adoro perché sono persone fisiche, perché ci parlo, perché sfioro i libri, perché li tocco, perché faccio tutte quelle cose che oggi non posso fare, ma Conte mi dice che da martedì voi potete andare in una libreria a comprare le tasse invisibili, poi vi dicono, beh, non ci sono le tasse invisibili, tornate a casa e dite, beh, poi Roma ha detto di andarle a comprare, io sono andato in libreria, Conte mi ha permesso di andare in libreria e queste tasse invisibili non le ho comprate perché non c'erano le tasse invisibili, potete dirlo, no? Lo potete dire, nessuno vi può ammazzare, ma voi capite, voi capite qual è il criterio assurdo? Assurdo! Quando io leggo questa vicenda di Conte, dico, ma cosa gli è venuto in mente? Perché i propri librai? E perché il giorno dopo leggo Repubblica? Il giorno dopo leggo Repubblica e leggo un pezzo che avrebbe potuto scrivere vostro figlio o qualsiasi persona che nelle scuole, da elementari in poi, i maestri hanno detto la cosa più banale del mondo e cioè che la cultura è importante quanto tante altre fondamentali bisogni dell'uomo, la cultura, la lettura, com'è che dice? Se un libro è come il pane, scrive Serra, se il libro è come un pane, scrive Michela Serra e il giorno dopo che Winston Conte ci spiega che possiamo andare in libreria, ma io vi chiedo, ma io vi chiedo, potevate comprare i libri online, potevate comprare i libri che ve li portavano a casa, potete andare in libreria che sta magari a 5 km da casa vostra perché magari è la più vicina, a differenza del supermercato, non c'è esattamente una libreria ad ogni angolo e voi potete dire, sto andando in libreria, io voglio vedere cosa vi dicono quando dite che state andando in libreria. Beh, la cultura, se un libro è come il pane, dice Michela Serra e poi dice, ha un valore simbolico questa cosa di Winston e la cultura è come il pane, il rischio zero non esiste, dice Serra, per giustificare il fatto che non andiamo a comprare i libri, ma se il rischio zero non esiste, perché non possono aprire i bar con altrettanta attenzione, perché non possono aprire gli artigiani, perché non possono aprire i parrucchieri, perché non possono aprire le estetiste, perché non possono aprire quelle fabbriche che possono metterci a distanza l'uno dall'altro, perché, perché il problema che questi non capiscono purtroppo e che non ci vuole molto a non capirlo, sapete qual è, è che purtroppo se tu non hai un euro o se tu hai pochi euro in tasca, questi qua non te li compri, le tasse invisibili non te le vai a comprare, primo un vivere, de inde filosofari, primo te fai la spesa, tra l'altro con quale prospettiva? Questo libro quanto costa? Quanto costa questo libro? 17 euro. Secondo voi una famiglia normale, a parte Serra, oggi, se sa che nel futuro, che oggi non ha fatturato, che non apre la sua attività, beh, un libro forse, un libro, ma poi dopo deve pensare a qual è la sua vita complessiva, dove trova i soldi per fare la spesa, dove trova fare i soldi per la spesa, ma non è una roba che tutti noi in questo momento abbiamo un dubbio sulla sicurezza del nostro reddito in futuro, ma in realtà bisogna aprire le librerie, io sono a favore, io le terrei aperte, io sono contento che siano aperte, bando agli equivoci, non voglio dire che siano chiuse, si devono aprire, ma trovo ridicola questa retorica per cui oggi il rischio zero può essere accettato dai librai, può essere accettato da coloro che vanno a comprare i libri come coloro che vanno a comprare il pane e non può essere accettato per altre attività produttive che in realtà fanno il pane, i soldi con cui dobbiamo campare, io hanno anche aperto i negozi di abbigliamento per i bambini, quelli hanno un senso perché un neonato cresce molto velocemente e sono ben contento che hanno aperto anche loro, hanno aperto anche la silvicultura, benissimo, io non sono dell'idea che debbano tenerli chiusi, sono ben contento che si aprano dei settori, ma sono contro questa retorica per cui tu apri i settori, quello dei libri che è stato il settore perché piace ai terrazzi romani, non voglio neanche dire la radical chic con la radical chic, io adoro leggere, non faccio altro che leggere, ho letto decine di libri tra cui 1984 che andate a comprare una libreria, andate a prendere le tasse invisibili e poi se non trovate le tasse invisibili il giorno dopo ritornate perché così vi fate un'altra passeggiata, siete liberi di poterlo fare perché ve l'ha detto Conte e chiedete 1984 di Orwell, secondo me costa anche meno del mio ed è ovviamente molto più interessante del mio libro, perciò potete andare, potete farlo, ma mi chiedo è il tema delle priorità, cioè se in questo momento questo governo sta pensando veramente al nostro futuro, sta veramente capendo che l'apertura delle librerie è la brioche di Maria Antonetta, vi piacciono le brioche? Sì! Vi sfavano le brioche? Sì! Ma se non c'è neanche un po' d'acqua e un po' di pane il rischio è che la risposta di Maria Antonetta, dategli le brioche, è esattamente uguale a quella di Conte, dategli delle librerie aperte, il problema non sono solo librerie, è tutto quello che ci sta intorno, forse io sono pazzo, forse io sono troppo grezzo, però penso veramente che questo sia il senso di un governo che fa le task force da 17 persone, guidate senza neanche un imprenditore o un artigiano o l'altro, o qualcuno che ha lavorato veramente nella massa viva delle fabbriche e dall'altra parte le task force da 74 esperti del Ministero per decidere quale app fare. Perché non spegnere 5 giorni per 7 giorni come esperimento? Vabbè, tutto deve riaprire per le giuste precauzioni, sarà questa la nuova regola per questa vita dopo i virus? Sì, Andrea, sarà questa, però le nuove regole non mi dire che non c'è anche per altri esercizi oltre che i librai, oltre che i librai. Poi dopo quando ci dicono, beh, insomma, Mondadori e Feltrinelli facciano come le coppe S lunga, cosa che scrive Michele Serra, io dico, scusami, ma perché soltanto quei librai? Io invece sono affezionato ai miei librai, quelli che ho girato in Veneto, in Toscana, che ho girato nel Lazio, quelle piccole librerie che ti danno ancora il consiglio, che c'è il padrone, che c'è il libraio, che ha letto i libri, quelle invece le consideri di serie B, ma dai, sono le vere librerie, quelle a cui noi tutti puntiamo, quelle che scelgono, che fanno, io mi ricordo i miei amici che stanno qua vicino a Roma, ne ho fatte tantissime, niente, non ce la si fa, non ce la si fa, lunedì ci vediamo a Quarta Repubblica, ovviamente non parleremo di librerie, ma parleremo in totale della riapertura come può essere fatta con sicurezza e se questo governo sta facendo qualcosa a pensare al vivere, primum che al filosofari. Ciao.